Spesso è il nervosismo dei conducenti a tradire responsabili dei reati fermati in modo anche casuale in posti di blocco o durante i mirati di controllo sulle strade calabresi. È successo anche nei pressi dello svincolo di Falerna dell'autostrada 2 del Mediterraneo, dove i finanzieri della compagnia pronto impiego di La Mezza Terme hanno notato l'atteggiamento sospetto di un uomo alla guida di un'auto. Così è scattata una perquisizione e un'espezione del mezzo, effettuata anche con il cane antidroga Tatanka, che ha segnalato la presenza di sostanze stupefacenti. In particolare, abilmente occultati in un doppio fondo dell'abitacolo, sono stati trovati 5 panetti di cocaina per un peso complessivo di 5,563 kg, che se tagliate e confezionate in dosi, avrebbe fruttato almeno 1.300.000 euro. L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti, mentre l'auto e la cocaina sono stati sequestrati.